Il no alle trivellazioni nel mare di Icata verrà ribadito oggi pomeriggio quando il Comitato Notriv ha organizzato un'assemblea pubblica fissata per le ore 18 in Piazza Sant'Angelo alla quale sono stati invitati a partecipare tutti i cittadini. Nel sottolineare l'estrema gravità della situazione e la necessità di agire con immediatezza, scrivono i componenti del gruppo, riteniamo inaccettabile che il futuro della nostra comunità sia determinato dalla volontà della multinazionale ENI con la connivenza delle istituzioni nazionali e regionali e pertanto intendiamo porci alle trivellazioni attraverso azioni dirette di contrasto senza alcun livello di mediazione politica. L'assemblea di oggi pomeriggio non sarà la prima iniziativa di protesta da parte del movimento Notriv. Domenica scorsa sono stati collocati infatti sul ponte di via Mazzini alcuni striscioni per contestare il progetto denominato Offshore Ibleo con il quale Lenin intende realizzare dei pozzi di coltivazione di gas e di esplorazione petrolifera a pochi chilometri a largo della costa delicata. La presenza stabile delle trivelle, continua la nota, avrebbe effetti devastanti sull'ambiente e sulla già disastrata economia della nostra città, incidendo primariamente su settori trainanti quali pesca e turismo. Il comitato, che non si riconosce in alcuna aggregazione partitica, si pone come obiettivo quello di porre in essere ogni attività per contrastare e infine impedire la realizzazione di queste opere inutili e dannose. Nel prendere atto delle tardive dichiarazioni rilasciate dagli esponenti dell'amministrazione uscente, conclude il documento dei Notriv, in merito all'adesione al ricorso presentato da Greenpeace, ritiene che l'importanza della vicenda avrebbe meritato ben altra attenzione da parte della Giunta e del Consiglio Comunale.